I caduti di Superga sono sempre vivi nella memoria e la Roma li onora coi suoi giocatori e dirigenti. I giallorossi mirano a conservare con imbattibilità il primato in classifica. L'ex giallorosso Tonto Donati esordisce contro la sua vecchia squadra. Giuliano sarà fra i migliori in campo. È la partita dei tiri fuori bersaglio, questo è di sentimenti terzo. A metà della ripresa azione Tonto Donati, Buz, Giovetti, Albani si salva tuffandosi in avanti. A dieci minuti dal riposo Galli scartato il portiere non riesce ad infilare la porta sberlita. Nell'intervallo i commenti riconoscono giusto il nulla di fatto. Tuttavia Capelli, nuovo direttore tecnico Granata, spera nella vittoria. Il Torino si butta animosamente all'attacco, ma la solida e ordinata difesa della Roma fa argile. Dodicesimo minuto. Ricevuto un calcio da sentimenti terzo, Brunet lo ha restituito e l'arbitro, visto cadere il Granata, che ha pure un effetto ritardato, espelle il mezzo sinistro giallorosso. L'uscita di Brunet e i contorcimenti di sentimenti terzo provocano contrasti anche fra il pubblico. Poi Albani para in due tempi un tiro di Balviano. Anche ridotta in dieci, la Roma non rinunzia ad insidiare la rete Granata. Alla fine i giallorossi sono soddisfatti del pareggio, non meno del Torino, che trae dagli applausi del suo pubblico buon auspicio per il grande incontro con la Juventus.